Ciao a tutti, sono Catena Fiorello e anche io sostengo la campagna per il riciclo dei telefoni esausti che in Italia è stata portata dalla Jane Goodan Institute. Io sono venuta a conoscenza di questa diciamo campagna grazie a una studentessa liceale di Lecce che si chiama Alessandra Abruzzo e la ringrazio tantissimo per questo perché perché quando noi buttiamo nell'immondizia un cellulare un tablet non ci rendiamo conto che in quel momento stiamo facendo un grandissimo errore perché perché il riutilizzo dei telefoni cellulari o comunque di tutti gli apparati elettronici di questo tipo quindi i tablet e telefoni insomma in genere portatili e può creare un circuito importante di energie nel mondo volete sapere come? Allora visitate il sito di Jane Goodan Institute ce ne sono tanti punti in Italia e vedrete come si fa interessantissimo interessantissimo io l'ho fatto fatelo anche voi ciao